Bene, allora, come promesso rispondo in particolare a una domanda che è arrivata. Ne sono arrivate due. La prima domanda era relativa al fatto che probabilmente non avevo spiegato bene uno dei passaggi dell'ultimo esempio e si riferiva semplicemente al fatto che chi ha scritto credeva che andassero tolte nove carte, invece le carte restano sempre 27 in gioco. Adesso comunque risponderò a un'altra domanda che è arrivata in cui si chiede un chiarimento appunto sull'ultimo esempio e sull'ultima formula che avevo scritto e così sarà anche chiaro che non vanno tolte carte da questo gioco. Allora, vediamo da dove ripartiamo. Ripartiamo dal fatto che abbiamo 27 carte. Demostriamo a qualcuno che mentalmente sceglie una carta. Sceglie una carta e non ci dice qual è. Noi prendiamo le carte e le disponiamo in colonne in questo modo qui. Adesso faccio dei puntini. Vado avanti in questo ordine. Diciamo, dico, sono in colonna. In realtà nel fare il gioco potrei metterle anche una sopra l'altra. L'importante è che chi ha scelto la carta guardi quello che sto facendo, aspetti che io abbia finito e alla fine mi dica in quale colonna o in quale mazzetto si trova la carta. Allora, vi faccio vedere cosa succede nella prima versione del gioco, quella in cui metto il mazzetto sempre in mezzo e che originerebbe il numero scritto in base 3, 1, 1, 1. Ok? Secondo l'ultima formula che ho scritto. Allora, supponiamo che mi venga detto qual è il mazzetto della colonna delle carte in cui si trova la carta da indovinare. Non ha importanza quale delle tre colonne, va solo, è l'unica cosa importante dove va a finire. Dove va a finire dopo che io ho messo in mezzo la colonna e ricomincio a mettere giù le carte. Siccome ho messo in mezzo questo mazzetto e ogni mazzetto ha 9 carte, trovo 9 carte prima, quindi quando inizio a depositare le carte nella seconda volta, nelle prime 9 che vanno a finire qui, sicuramente non c'è la carta giusta. La carta giusta potrebbe essere tra queste 9 qui. e sicuramente non è nelle ultime 9 carte che vanno a finire qua. A questo punto mi viene detto di nuovo in quale colonna si trova la carta. In quale colonna si trova la carta. Di nuovo, non ha importanza dove si trova la carta, ma è importante solo dove va a finire. Io prenderò quella colonna e quella colonna, quel mazzetto, lo metterò in mezzo. Il che vuol dire che le prime 9 carte sicuramente non sono quelle in cui c'è la carta. Poi prendo una delle tre colonne, che è quella che è finita in mezzo, e proseguo. In una di queste tre colonne, adesso indico la prima ma non è importante, cosa trovo? Che le prime 3 carte vanno a finire qui e non sono quelle giuste. Le carte giuste vanno in orizzontale e dietro mi trovo tre carte nere, che erano in quella colonna, tre carte che sicuramente non sono la carta che mi interessano lì, e poi le 9 dell'ultimo mazzetto. Le 9 dell'ultimo mazzetto. A questo punto mi viene detto di nuovo in quale colonna si trova la carta. Non importa quale di queste colonne sia, in ogni caso prenderò quel mazzetto e lo metterò in mezzo, e quindi le prime 9 carte sicuramente non sono quelle della colonna giusta, quindi sono tutte sbagliate. Poi prendo il mazzetto in mezzo, che corrispondeva a una di quelle colonne. Le prime 4 carte sono sicuramente non giuste, ma la quinta di quel mazzetto è quella giusta, e le altre tutte no. e quindi davanti, se questo mazzetto è stato ricomposto con la mia carta in mezzo, le carte che trovo prima sono 9, ricompongo mettendo il mazzetto in mezzo, 9 più 4, 13, e la quattordicesima è la carta giusta. Spero che sia chiaro, ma naturalmente se ci sono ulteriori domande, attenzione che usando la formula di prima, otterrei, diciamo, con la regola, prendo il mazzetto e lo metto in mezzo, gli associo il numero 1 la prima volta. Prendo il mazzetto e lo metto in mezzo, associo il numero 1, prendo il mazzetto e lo metto in mezzo, associo il numero 1. Trovo 1 per 3 alla 6, questo è il numero 111 scritto in base 3, ma questo non è detto che uno poi debba dirlo ai ragazzi, se è il momento lo si può presentare, ma se non lo è, no. 1 per 3 alla 1 più 1 per 3 alla 0, quindi 111 scritto in base 3, mi dà 9 più 3, 12, più 1, 13, e sono il numero di carte che precedono la carta giusta. Allora, per vedere che il gioco può essere generalizzato e si risponde, diciamo, si trova la carta giusta scrivendo quel numero che avevamo detto prima in base 3, trasformandolo in base 10, si procede esattamente allo stesso modo e si tratta di capire come si muovono le carte. Allora, di nuovo, io ho le mie 27 carte, le distribuisco in quelle colonne, in quel modo, e mi viene detto qual è la colonna giusta. Adesso io decido se mettere questo mazzetto sopra, in mezzo o sotto. Adesso faccio un esempio diverso da quello che ho indicato nella presentazione. Ok? Quindi, al primo passaggio, perché risulta un po' più chiaro come si compongono le cose mettendo dei numeri diversi, credo. Quindi, al primo passaggio, decido che il mazzetto che contiene la carta giusta lo metto in fondo. Ok? In fondo significa 2. Mi scrivo qui il 2. Allora, se la carta giusta sta nel mazzetto in fondo, quando vado a rimettere giù le carte, dove, in quale zona si trova la carta giusta. Allora, le prime 9, no. Le seconde 9, no. E la carta giusta si troverà qua, in fondo. Allora, siccome le colonne sono fatte da 9 carte, ragioniamo, in un primo tempo su blocchetti da 9 carte. La prima colonna, una colonna è finita tutta qui. Ok? Un'altra colonna è finita tutta qui. E la colonna che conteneva la carta giusta è finita qua. A questo punto mi viene detta qual è la colonna da prendere. non importa quale ho, vediamo, non importa quale è la colonna, ma vado di nuovo al secondo giro vado di nuovo a metterla in fondo e quindi ottengo un altro 2. Scriverò prima dell'altro. Il primo 2 andava scritto qui e adesso questo 2 me lo scrivo davanti. Ok? Allora, vediamo dove vanno a finire le carte. Allora, se io prendo una colonna adesso, cosa succede? Succede che la prima riga è fatta di carte che sono sicuramente tutte sbagliate perché provengono dalla colonna nel primo blocchetto. Non si vede dove, forse si vede appena il puntatore dove lo... Ok? Sono per esempio queste tre. Poi prendo altre tre che sono sicuramente sbagliate e poi me ne compaiono tre che potrebbero essere tre. Ah no, che sono sicuramente sbagliate. Sono sicuramente sbagliate perché non sono nel mazzetto che mi sono... che mi è stato consegnato. anche nel secondo blocchetto sono sicuramente tutte sbagliate perché non è la colonna giusta e le ultime tre che mi compaiono le ultime tre diciamo siccome l'ho messa in fondo e le ultime tre sono le uniche che possono essere quelle giuste. Ok? Diciamo che fosse questa la colonna giusta allora le metto quando vado a mettere le altre o i due blocchetti e infine metto questa colonna che mi dà le prime due righe dell'ultimo blocchetto nere perché non sono giuste e l'ultima riga in orizzontale mi diventano rosse. Ok? A questo punto a questo punto vado a fare il terzo passaggio che è quello in cui mi viene indicata qual è la colonna giusta e decido di metterla in un posto diverso questa volta la metto in alto al primo posto quindi mi scrivo uno zero qua davanti allora a questo punto mi prendo la colonna giusta che non importa qual è e l'unica carta che può essere giusta di quella colonna è l'ultima quindi mi trovo due righe che non sono giuste infine la carta è qui tutte le altre sono nere adesso mi interessa sapere quante carte ci sono davanti alla mia carta e sono 0 per 3 la seconda più 2 per 3 che fa 6 più 2 che fa 8 la nona carta è quella giusta allora qui abbiamo visto il procedimento che le cose tornano vediamo di capire perché tornano se le pensiamo scritte come se pensiamo a quella scrittura come un numero in base 3 cosa che ripeto adesso io dico perché siamo qui e conosciamo la scrittura dei numeri in base diversa da quella decimale non è detto che uno debba arrivare con i ragazzi a questo tipo di scrittura può anche cercare di convincerli con questi spostamenti che la formula è corretta non occorre arrivare diciamo a spiegare tutti i passaggi matematici o di usare tutti gli strumenti che presentiamo ma cerchiamo di convincerci noi di qual è il meccanismo per cui la scrittura in base 3 fatta in questo modo funziona allora cosa succede guardate che io ho messo il numero 2 mi va a finire al posto delle unità che vuol dire quante unità ci sono davanti alla mia carta poi possiamo chiamarle decine ma in notazione decimale sarebbe la posizione delle decine qui la posizione della cifra che moltiplica il numero 3 quanti 3 ci sono davanti alla mia carta ce ne sono 2 e infatti ho un 2 davanti scritto al 3 quanti blocchetti da 9 ho davanti alla mia carta nessuno perché li ho messi tutti dietro perché succede questa cosa qui perché all'inizio io avevo messo due blocchetti questo primo 2 che è quello delle unità diciamolo questo 2 qui vediamo da dove viene sarebbe il corrispondente delle unità in notazione decimale da dove viene viene dal fatto che qui avevo due blocchetti da 9 vediamo dove vanno a finire questi blocchetti da 9 nei passaggi successivi ok allora pensando alla colonna giusta dove sono andati a finire quei due blocchetti qui questo blocchetto si è trasformato in questa riga qui dopo il passaggio questo blocchetto si è trasformato in questo passaggio qui dopo l'ultimo passaggio sono diventate queste tre quindi questa riga mi è diventata questa unità qui e questa qui è andata a finire qua quindi il primo passaggio i blocchetti da 9 del primo passaggio si sono trasformati in quante unità stanno davanti alla mia carta nella riga finale la stessa cosa accade al passaggio tivo se io al secondo passaggio ho messo due mazzetti davanti al mazzetto giusto adesso ho questi due ho messo questi quando vado a prendere la colonna giusta il primo mazzetto diventa questa prima riga e il secondo mazzetto diventa questa seconda riga quanti tre ci sono davanti alla mia carta ok è chiaro che poi è l'ultimo passaggio se metto la carta sopra non ci sono blocchetti da 9 davanti alla carta se la metto in mezzo c'è un blocchetto da 9 c'è un 9 davanti se la metto in fondo ce ne sono due quindi il fatto di associare al dove ho messo la carta un numero che è 0 1 2 dove ho messo il mazzetto con la carta giusta il numero 0 1 2 mi porta questa scrittura in base 3 e trasformando il numero dalla base 3 alla base 10 conto quante carte ci sono davanti alla carta giusta ecco quindi io spero di avere risposto alla domanda che era arrivata io chiuderei di nuovo il collegamento e procediamo con le discussioni che erano avviate nelle varie sedi di nuovo di nuovo di nuovo di nuovo Grazie a tutti.